E allora ha detto no, io non do la vita, cioè porto su da fare già un po' di ragione con le altre e quindi per me è il tempo lì, però qualcuno mi cambia perché La vita tanti anni organizza questa maratona di prima vita, questa maratona delle scuole cattoliche Io credo che si muove per due cose, prima di tutto si muove per la scuola Perché senza scuola non c'è società, senza scuola non c'è democrazia, senza scuola non c'è futuro e non c'è speranza Due, sicuro che la solidarietà, anche quest'anno avete scelto un'associazione, l'associazione di parenti da poter aiutare a chi poter scavaccare, scuola e solidarietà però vanno d'accordo Io credo che la scuola sia un luogo dove si può apprendere la solidarietà Scoprire che accanto a voi c'è qualcuno che fa più fatica, che sta peggio, che ha bisogno del nostro avvento Quindi sono davanti con questo pilone, scuola e solidarietà E grazie a voi che non vivete per le strade della nostra città Credo che le parole non servano molto oggi Da questo punto di vista si percepisce già lo spirito di questa iniziativa La gioia dello stare insieme La voglia di farsi carico anche di chi è più libero e di chi non corre come noi E una riflessione sul calore educativo della scuola cattolica Ma queste tre cose che sono bellissime, importanti Sono significate dalla vostra presenza così numerosa Che colora ancora una volta le strade della nostra città E' bello vedere che ancora una volta lo sport, il movimento E' di supporto a questa idea della solidarietà Veramente un grazie di cuore a coloro che con il volontariato, con l'impegno, con la costanza e con la fatica Specialmente in questa giornata di oggi Hanno saputo rendere una giornata meravigliosa Grazie e buona corsa A tutti coloro che hanno reso possibile questa magnifica manifestazione di gioia Grazie a tutti coloro che hanno organizzato Grazie alle autorità presenti, dal signor sindaco all'assessore Castelli Ma in particolare all'arcivesco Grazie a tutti i genitori giovani che hanno organizzato l'isponso Che hanno sostenuto questa iniziativa A favore soprattutto dei bambini più in difficoltà nella loro crescita e affetti da malattie rare Grazie a tutti perché questi ragazzi possono come tutti noi sorridere E guardare alla vita con dignità e sognare al loro futuro con la forza Che accanto a loro ci sono tanti amici, tanti ragazzi, tanti giovani che le vogliono bene Anche a loro e soprattutto a loro Grazie a tutti di questa partecipazione Buona festa e buona maratona